ogni volta che è avvenuto questo segnale bitcoin ha iniziato una fase di bull run bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video faccio roteare il nostro bitcoin d'oro perché ci sta portando stra fortuna ragazzi e da un po' di tempo e quindi lo facciamo girare perché da un po' bitcoin ha iniziato questa super fase importante ma soprattutto negli ultimi giorni candele 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 verdi che cosa sta facendo e ragazzi è una cosa molto importante perché siamo venuti da un anno difficile quello dell'anno del 2022 soprattutto nelle fasi finali del 2022 da novembre in poi a un certo punto è iniziato l'anno in un modo totalmente anomalo totalmente diverso dal solito è solo candele verdi il mistero è il miracolo è la bellezza del criptovalute andiamo a rispondere alla domanda andiamo a vedere quelli che sono questi indicatori c'è una indicazione un segnale che bitcoin sta facendo proprio in questo momento e che di solito coincide con l'inizio di una bull run mini o grande che sia va bene ragazzi allora cosa deve fare un investitore in questo momento molti di voi sono convintissimo che stanno passando un pochettino stanno avendo un po' di dubbi perché si passa in una maniera molto semplice quando avvengono queste fasi di appunto queste fasi di alziste si passa in maniera molto semplice da quello che è una situazione di FAB quindi la paura che i mercati inizino una fase discendente o continuano una fase discendente si passa immediatamente alla paura di perdere il treno la cosiddetta FOMO gli sbalzi emotivi del trading e degli investitori sono evidenti sono sugli occhi di tutti quindi il vero problema dell'investitore che ragiona in termini medio lunghi in questo momento è quello di decidere cosa fare ragazzi e come agire ci sono due tipologie di investitori ci sono delle mentalità che dicono ok siamo sempre dentro all dall'infinito e quindi rimandare una scelta di investimento in pratica non si guadagna mai solo se il mercato sale si guadagna oppure quelli che sono investitori più intelligenti più accurati che magari prendono profitto aspettano fasi di abbastanza e poi però decidono se rientrare come rientrare o meno come si fa andando a guardare alcuni dati ragazzi perché in questo caso analisi tecnica e analisi ciclica coincidono esattamente in questo segnale che andiamo a vedere oggi e che indica un segnale molto rilevante che potrebbe appunto portare a questa burrana nelle precedenti fasi di bitcoin ha fatto proprio così analizziamo quindi tutti i passaggi da novembre fino ad ora ragazzi per vedere come si trasforma la FAD quindi la paura dell'investitore in fovo e cosa sta capitando perché l'unico modo per vedere queste cose ragazzi badate un po' e riassistere a queste cose allora siamo tornati indietro nel tempo e prima della famosa domenica del 6 di novembre io me lo ricordo perfettamente perché ero davanti al cammino e alla pc e stavo guardando quello che aveva fatto diciamo un po' il famoso CZ e quindi questa è la fase che ha passato bitcoin soltanto in tre giorni 1, 2, 3 il giorno 8 e poi il successivo giorno 9 ha causato in pratica nella struttura di 4 giorni guardate da qui a qui un ribasso del 26-30% ribasso che ad oggi ancora oggi in soli 4 giorni questo ribasso sta tenendo banco e tutti i prezzi tutte le oscillazioni di bitcoin e delle cripto in generale sono tutte oscillazioni che sono presenti e sono all'interno di questo famoso 26% in 4 giorni in pratica si è definito tutto quello che erano i mesi a venire e bitcoin ha dovuto poi cercare delle fasi eventuali di rimbalzo come vedete magari in questi punti tra le altre cose ma non c'è mai riuscito quindi poi successivamente vedete ha iniziato una fase di congestione tutta impostata all'interno di questa barra di congestione di questa barra qui quella dell'ultimo minimo quello toccato il 9 di novembre e ha in pratica continuato questa sua fase di bassista fino al minimo definitivo che è avvenuto poi il 21 di novembre minimo che è avvenuto sia in shadow sia in close perché se andiamo a vedere la struttura della close abbiamo anche un minimo inferiore è vero che è una specie di doppio minimo ma in pratica è una struttura molto famosa di bitcoin che io tra le altre cose utilizzo da anni e nel mio corso di proporzione l'ho simpaticamente definita il pattern caimi in sostanza è un 123 di joe ross modificato un pochino perché ha delle leggere modifiche e funziona molto bene sulle cripto questo pattern qui è il pattern di inversione che le cripto preferiscono da sempre nel medio periodo dopodiché bitcoin ha continuato ragazzi in pratica a stare all'interno di questo range di prezzo qui cioè quello che è stato disegnato nella candela del 9 di novembre e poi in un range allargato vedete dal minimo in questione ma più o meno un doppio minimo in sostanza tutto quello che ha fatto fino proprio a ieri lo ha fatto dentro questa candela qui ragazzi ed è molto interessante perché ha in pratica disegnato una super barra di congestione creando quelli che erano poi i presupposti per un'eventuale ribrezza ma soprattutto per questo segnale che avviene invece sul grafico ad una settimana un segnale che va ad essere concomitante con una scadenza ciclica che vi mostrerò e che ci pone un po' l'accento sul concetto se in effetti andando a guardare tutti questi dati noi possiamo un po' schiarirci le idee e a livello tecnico possiamo decidere che dei dati oggettivi di natura tecnica appunto di trend ci possono poi mettere sulla giusta strada che poi ragazzi bisogna anche sempre comprendere il concetto che è un dato di natura tecnica quindi analisi tecnica, analisi statistica, analisi ciclica stessa sono dei dati di cui noi dobbiamo, possiamo avere utilizzo ma sempre in un mondo aleatorio siamo quindi qualcuno di voi ancora non comprende bene questo giochino cioè il concetto che un'analisi tecnica, un'analisi statistica non può darvi la certezza di un futuro ma può darvi un'indicazione tecnico-oggettiva che è molto più rilevante della FUD o della FOMO di cui gli investitori sono pienamente vittime soprattutto in queste circostanze perché qui ragazzi super FOMO cioè qui la possiamo praticamente definire e diciamo ok qui siamo nella FOMO nella FUD totale scusate FUD totale e questa è zona di FUD adesso vi faccio vedere come cambia radicalmente man mano che passa il tempo e si trasforma questa zona di FUD la si trasforma in zona di FOMO che è sempre una questione emotiva ragazzi allora vedete questo livello, questo limite fino alla giornata di ieri ha sempre retto quindi qui siamo in FUD la FUD è diventata FOMO nell'arco di un giorno praticamente tutti si sono accorti in questo momento che non sono saliti sul carro quindi chi è dentro ed è in hold ok diciamo non fa niente gli holders diciamo non sono investitori veri nell'ambito del concetto diciamo di investimento di medio periodo ma sono dei investitori che in pratica bypassano no? il concetto decisivo perciò in pratica tutte queste cose non dovrebbero guardarle minimamente subiscono la volatilità in Totono però chi magari sta uscito o ha perso tutto magari su altre cripto e quindi poi ha deciso di uscire da qui è passato dalla FUD alla FOMO allora ragazzi fa quasi sorridere questa cosa perché basta un niente qui FUD vedete adesso siamo in FOMO perché nessuno è entrato ah adesso è troppo tardi molti diranno è troppo tardi allora lo stesso identico giochino si può andare a ricreare X volte perché adesso Bitcoin cosa farà? ne possiamo vederla anzi vi do questa chicca prima di passare al segnale quello più importante che volevo farvi vedere farà probabilmente questo cioè starà dentro quest'altra candela cioè la candela della zona del 20 dell'8 di novembre o di questa zona di massimo cioè in pratica ragazzi da qui in poi già vi sto dettando la prossima il livello di esistenza che è 21 molto 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 alto perciò bisogna tenere sotto stretta osservazione questa fase intanto guardate bene la struttura d'ascensore di che si innesca in maniera classica nel settore delle cripto proprio quando c'è un passaggio da FOMO da FAD a FOMO e vi ricordo che anche in questa zona c'è questa cosa qui no btc on exchange e no cripto on exchange perché ragazzi semplicemente le hanno venduti le hanno spostati e le hanno messi sui wallet univati allora questa è comunque presente una serie di situazioni che innescono una palestra diciamo presenza di una eventuale super FOMO perché semplicemente non ci sono più le cripto sui exchange ma soprattutto non ci sono le stable quindi molti li devono li spostarsi su per comprare e andare a fare queste cose insomma carissima questo discorso di andare a vedere appunto come si vanno a creare queste strutture se non che ragazzi nel procedo di questa sua galoppata bitcoin ha fatto questa cosa qui e la sta disegnando proprio in questo momento adesso io vi riprendo quello che è uno dei grafici che più sto seguendo su bitcoin negli ultimi anni questo è un grafico di lungo periodo e riguarda quelle che sono le fasi di bear market di bitcoin e dalla 2013 in poi questo grafico lo abbiamo anche visto ogni tanto ragazzi non è stato abbandonato così cioè ve l'ho mostrato anche diverse volte ma in sostanza quello che volevo farvi vedere anzi facciamo una copia conforme di questo è come sia a livello ciclico sia a livello di analisi tecnica bitcoin stia facendo questo segnale qui e bisogna guardarlo poi alla fine vi dico anche le mie personali conclusioni su questa vicenda ma in pratica i bear market dai massimi storici di bitcoin fino al minimo che ha toccato o eventualmente poi qui c'era una specie di doppio minimo in questa struttura anche di questo poi magari parliamo in un secondo momento ragazzi sono stati più o meno dentro i 400 giorni l'ultimo bear market del 2017 ha segnato 364 giorni pari a 52 settimane l'attuale bear market 2021 ha segnato 364 giorni pari a 52 settimane quindi è copia conforme del precedente bear market del 2017 primo punto fondamentale da andare a guardare dato di natura oggettiva è vero che i precedenti erano stati più lunghi quello del 2013 2015 ma è anche vero che il bitcoin era estremamente giovane molto più volatile molto meno impattante in termini di struttura di capitalizzazione quindi questo voleva dire anche che si muoveva con un soffio di fiato molto più facilmente di ora ma dov'è adesso in questo momento bitcoin perché c'è il secondo segnale quello di natura tecnica questo è il segnale di natura ciclica che vi ho fatto vedere poi c'è il segnale di natura tecnica che se è confermato e lo sapremo la prossima settimana già ve lo dico oppure anche questa fino a domenica c'è tempo oggi è venerdì però in sostanza secondo me ci vorrà la prossima settimana perché se avviene ragazzi tutte le volte che è avvenuto tranne una singola eccezione che adesso vi faccio vedere ha innescato una nuova fase di bull run nel momento in cui andiamo ad analizzare questi dati ragazzi intanto la cosa principale è dire la struttura ciclica di bitcoin rispetta alla perfezione questa che è la sua struttura di scadenza poi ci sono tanti approfondimenti da fare lo so che molti di voi stanno dicendo ma non è proprio così sì ragazzi questo è vero però dovete comunque rispettare anche un punto di vista una semplicemente verità relativa diciamo così perché poi se andiamo a guardare altri dati ci sono altri dati da guardare che abbiamo fatto in tantissimi video lo faremo ancora un domani però questo è un video che vuole dedicare l'attenzione a questo segnale qui ragazzi e basta a volte la semplicità paga di più rispetto a riempirsi la testa magari l'uno sono il contrario dell'altro e spesso e volentieri magari non ci fanno operare creano il cosiddetto blocco dell'investitore nell'ambito in cui abbiamo questa struttura ragazzi vi faccio vedere le mie due medie queste non sono le solite medie che utilizziamo nell'ambito del grafico daily ma sono le due medie a 26 e 12 che sono quelle posizionate sul time frame settimanale le medie e i periodi delle medie sono da costruire in base al time frame che andate a utilizzare perciò il periodo delle medie non è standard non c'è un default a meno che non utilizzate lo standard 14 giorni sul daily che però nel caso cripto non è così tanto funzionale ma nel concetto del grafico a time frame settimanale io utilizzo le 12 e 26 che sono delle medie in particolar modo molto importante quella da 26 perché la 12 è una media che mi indica più o meno un trimestre cioè l'andamento in 3 mesi 12 settimane circa dei prezzi di bitcoin quella che mi interessa molto invece è la 26 che più o meno indica metà dell'anno quindi il semestrale ragazzi il ciclo di bitcoin semestrale questa media ed è quella che vedete in arancione non è mai stata rotta dall'inizio del bear market il bear market ha iniziato teoricamente da questo qui da questo livello qui dal break di questo ultimo minimo in pratica dalle medie in questione è iniziato dal breakout confermato quindi in questa zona più o meno delle medie confermato anche dal pull up che vedete su questa media qui e poi dall'inizio di questa fase discendente anche semplicemente il breakout di questo minimo ha indicato anche tecnicamente un inizio di bear market in maniera ufficiale intorno ai 30.000 più o meno ragazzi va bene molto distante ovviamente per operare eccetera però questo media non è mai stata superata ora cosa succede qui ragazzi siamo nuovamente a contatto con questo livello dopo che era stato toccato sia nell'aprile circa del 2022 sia pre-crollo della settimana nera di novembre della settimana di FTX allora qui abbiamo il touch che è avvenuto il 22 di marzo qui la settimana del 7 di novembre è avvenuto il touch di questa media e poi il crollo ora siamo di nuovo qui cosa succede se bitcoin la brecca questa volta ecco perché vi dicevo che ci vuole la settimana prossima perché settimana prossima potremmo avere il breakout di questa media per la prima volta dall'inizio del bear market che è appunto da qui in poi non è mai più riuscito vedete a risalire sulla media 26 settimane il 27 dicembre 2021 ha iniziato a breccare questa media quindi ha rotto questa media e dal dicembre del 2021 bitcoin non è mai riuscito a salire al di sopra di questo livello che cosa succede quando ci sale andiamo nel passato e andiamo a vedere che cosa è successo analizziamo tutti e due i precedenti bear market che hanno dei dati statistici sia quello più volatile del 2013 2015 sia l'ultimo che è più chiaro allora qui abbiamo ancora una volta questo atteggiamento vedete un breakout della media il pull up della media qui ha fatto dei leggeri break non molto definiti ma l'ha fatto il crash vedete ancora una volta sempre sotto una media 26 periodi attenzione ha fatto il break poi qui della media vedete a 26 periodi e ha innescato un'inversione di trend di medio lungo periodo che poi è scatolita con un doppio minimo in questa zona rispetto alla close di questa candela non al minimo in shadow quindi ve la faccio vedere sulla chiusura della candela vedete una specie di doppio minimo in questa zona ma comunque mai inferiore quindi ha sempre fatto un minimo superiore dall'inpoi ha iniziato poi vedete una nuova fase di bull run appoggiandosi sempre alla media a 26 periodi guardate un po' la precisione di questo indicatore banalissimo semplicissimo fino a quando fino alla alla fine della bull run del 2018 17 è la conclusione con lo stesso identico atteggiamento breakout pull up del in questo caso diciamo questo break non è avvenuto poi c'è il breakout qui in questa zona pull up che fa il alla vicinanza sulla media a 26 dopodiché di nuovo bam 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 crash solo qui è avvenuto un break guardate cosa succede dopo il break nuova bull run di bitcoin attenzione però perché qui poi succede una cosetta questa è un'eccezione cioè bitcoin si riposiziona sotto la media e va in barra di congestione fa su e giù su e giù su e giù questo è l'unico momento dove il breakout della media a 26 non è scaturito con una bull run perché è avvenuta la pandemia ragazzi va bene quindi io quei tre giorni li calcederei con grande tranquillità perché semplicemente quelle tre settimane dovute alla questione pandemica forse storicamente non hanno un grande rilievo perciò al momento io potrei dire che è meglio cancellarli e da un punto di vista statistico secondo me qui il mercato avrebbe continuato a fare barra di congestione e poi continuare la sua fase se non che ragazzi break della media se cancelliamo l'evento pandemia come vedete dam 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 fino al massimo successivo e poi il giochino che ha fatto qui per la prima volta questa è un'eccezione siamo di nuovo allo stesso punto di prima siamo di nuovo al punto più importante che dovrà affrontare probabilmente bitcoin nelle prossime settimane prossima settimana chiave o anche la successiva si ferma brecca questo livello questo è un livello molto rilevante lo avete visto lo avete scoperto in questo video se lo fa ok l'analisi dei cicli ok l'analisi di tutto quello che c'è dietro ma a livello macro i cicli ci hanno anche indicato che tutto sommato il bear market ha fatto quello che doveva fare ritorniamo in burn run diretta no perché nei periodi precedenti come vi ho mostrato in realtà il primo break di questa media 26 settimane non innesca teoricamente la burn run ma innesca l'anno di congestione che è un po' guardate quello che ci aspettavamo ed è un po' quello che vi sto dicendo da mesi siamo arrivati al 13 di gennaio tutto sta andando come doveva in questa fase dal 15 in poi io inizio a ragionare perché se non brecca questo livello dobbiamo poi uscire e prendere eventualmente profitto dalle nostre operazioni per il momento è tutto fatemi sapere cosa ne pensate cosa bitcoin ciao ciao